Spagna e Portogallo si accontentano di un pareggio nel gruppo 2 della Lega A, Ricardo Orta firma il suo primo gol con la nazionale portoghese dopo il vantaggio iniziale di Alvaro Morata. La Spagna parte forte e impone il suo gioco ai lusitani che iniziano la gara con Cristiano Ronaldo in panchina, al 25 Gavi verticalizza per Pablo Sarabia che da dentro l'area con freddezza serve un pallone che Alvaro deve solo spingere in rete. Nella ripresa il Portogallo pressa più sull'acceleratore ma non riesce a trovare il gol fino all'82 quando Joao Cancelo trova lo spiraglio giusto per servire il neo entrato Ricardo Orta che con freddezza segna il gol del pari nonché il suo primo gol in nazionale. La Spagna parte forte e impone il suo gioco ai lusitani che iniziano la gara con